qui c'è il divieto di accesso alle persone non autorizzate quindi io non entro quindi è bello che chiusa divieti accesso pericolo non ti deve entrare la assolutamente non ti deve entrare qui divieti di accesso andiamo un po all'esterno belle questo è un parco allora c'è la madonna poi c'è una messa appena prosciugato lago del cucino e quindi c'è la canalizzazione principale a sopra i cuniculi di claudio e quindi vanno alla valle roda ci sono secolari stava sembra il tiglio sono alberi rari questo c'è uno spessore un diametro enorme di un metro sotto questo sarà appena appena che hanno prosciugato il lago del cucino qui guardate qui questo è proprio spettacolare e questo non diciamo un metro e mezzo di diametro guarda quanto enorme bellissimo è un metro e mezzo senza come due metri diametro non so qualità di albero è questa strada 1 strada 1 è quella che si ricongiunge con strada 2